Abbiamo assistito a una delle qualifiche più belle di questa stagione con i primi sei piloti qualificati in tre decimi e addirittura da Hamilton terzo fino a Sainz sesto sono racchiusi in 50 millesimi. Questa è la classifica con la pole position di Norris in 1'11 383 che ha dato 20 millesimi a Verstappen e quasi Verstappen faceva la pole position grazie alla scia che gli ha dato Perez. Dopo andremo a vedere anche questo lavoro di squadra casuale non casuale lo vediamo dopo e però c'è da sottolineare una Mercedes davanti a Ferrari con Ferrari che porta gli aggiornamenti in Spagna però non riesce a fare quello step in più per andare a lottare là davanti. È vero che gli stacchi sono anche minimi però ci aspettavamo forse qualcosa di più da Ferrari che un po' ha deluso in qualifica ha trovato meno grip rispetto agli avversari che si sono migliorati tanto dal Q1 al Q3 e Norris ha conquistato una straordinaria pole position con McLaren che si conferma ancora una volta la vettura migliore in questo momento della stagione. Vedendo le prestazioni di Piastri anche a confronto con quelle di Perez, Perez che sta facendo molto male, Piastri che purtroppo non ha avuto il tentativo giusto perché gli hanno annullato il giro però abbiamo visto una McLaren molto forte che si trova bene in tutte le tipologie di curve. È una macchina completa quindi gran pole di Norris che non la conquistava da Russia 2021 quindi ormai da tre anni che non andava in pole. È la sua seconda pole position in carriera e grande Lando io ho detto i miei pronostici ho detto ragazzi attenzione a McLaren perché secondo me Norris fa la pole position. Ho messo Norris Leclerc-Vestappen e invece è Norris-Vestappen-Hamilton però grande grande Norris perché ha fatto la differenza oggi anche su Max che ha approfittato della scia con una Red Bull che abbiamo visto leggermente più carica rispetto agli avversari. Infatti andava più forte nel secondo e terzo settore e è riuscito ad andare forte comunque anche nel primo settore infatti vi faccio rivedere la classifica al volo perché vediamo anche i distacchi nei settori. Vedete che Vestappen nel suo giro migliore ha fatto 21,369 che è un buon primo intertempo grazie alla scia che ha preso da Perez che gli ha permesso di avere quei 3 km orari in più di differenza rispetto alla sua velocità di punta normale. Infatti vediamo 328 km orari di velocità di punta che gli ha permesso poi di esserla davanti addirittura a ridosso della pole position. Diciamo i team che avevano la velocità di punta più alta tra i top team erano Mercedes e Ferrari infatti vedete 327 km orari per Hamilton, 329 per Russell, 327 per Leclerc e 327 per Sainz. Mentre McLaren aveva una velocità di punta un po' minore però recuperava nel corso della pista soprattutto anche McLaren nel secondo e terzo settore, specialmente nel secondo settore. Infatti 325 km orari per Norris e 323 km orari per Piastri, una velocità di punta minore. A supporto della tesi che Verstappen e Red Bull erano più carichi, così come anche Perez, vediamo la velocità di punta di Perez che è di 324 km orari. Quindi vedete che questi 4 km orari di differenza a vantaggio di Verstappen gli hanno permesso di essere anche un po' più avanti in qualifica. Poi ovviamente ha fatto un grandissimo giro Max e sta facendo la differenza in Red Bull però sicuramente questo scenario di Schia, di Perez, data Verstappen lo ha aiutato a essere un po' più avanti. Detto questo adesso andiamo a vedere nel dettaglio la telemetria e vediamo perché Ferrari ha fatto così fatica nei confronti degli avversari, cosa è mancato, cosa ci possiamo aspettare anche per la gara di domani. Ditemi nei commenti il vostro pronostico del podio per la gara di domani, andremo a analizzare ovviamente tutto poi nel post GP di Spagna e vi ricordo ovviamente come sempre di iscrivervi e attivare le notifiche per non perdervi nessun video che esce sul canale. Ogni settimana andiamo a analizzare tutte le notizie a tema auto e Formula 1 e vi avviso su Instagram quando escono nuovi video su YouTube e in più pubblico contenuti a tema automotive. Detto questo allora facciamo un breve recap di come sono andate le qualifiche e poi andiamo a vedere le telemetrie. Allora questo intanto parto un attimo dalle Clerc facendo un po' un riassunto di come sta andando il weekend per il Monegasco. Abbiamo detto che ieri è partita un po' più in difficoltà con il setup, nell'FP1 non ha avuto modo di provare gli aggiornamenti che erano stati montati solamente sulla vettura di Sainz. Poi dalle FP2 gli hanno montato il nuovo fondo, gli hanno montato anche gli aggiornamenti e è riuscito a performare meglio nel senso ha trovato più feeling nelle FP2. Nelle FP3 ha confermato una macchina ben dilanciata. Il vero problema di Ferrari ad oggi è che non è così carica come gli avversari, è leggermente più scarica e non riesce a trovare quel grip necessario per andare più forte. Soffre sempre leggermente o di sottosterzo o di sovrasterzo a seconda delle curve e a seconda della tipologia di asfalto e non riesce a trovare quel grip necessario che gli permette di fare le traiettorie degli avversari. Infatti per esempio anche in Curva 12, in uscita da Curva 12, vediamo che McLaren e Red Bull riescono a fare una traiettoria un po' più larga rispetto a Ferrari perché riescono a trovare più grip rispetto alla rossa che deve stare più vicina al punto di corda e poi allargare un po' la traiettoria. Ma in quel punto lì hai più angolo sterzo e riesci a dare meno velocità, meno gas e quindi vai a perdere qualcosina. Lo vedremo anche dopo con la telemetria. Quindi Leclerc è stato soddisfatto il bilanciamento da monoposto, la gara è domani, ha detto anche nelle interviste post qualifica. Secondo me Ferrari ha un passo migliore di Mercedes, l'abbiamo visto anche nell'FP3, però sarà tutto da giocare domani anche perché ci sarà l'incognita pioggia alle 15 nell'orario della gara. Ad attenzione che se la gara partisse con pista bagnata, beh, sarebbe un'incognita in più per tutti i piloti. Qui vediamo Hamilton che mi ha stupito, devo essere sincero, dal rischio nel Q1 che si è preso perché ha dovuto comunque fare un altro tentativo per rimettersi là davanti, poi ha riuscito a fare un'ottima qualifica nel Q2 e nel Q3 ha fatto la differenza anche nei confronti di Russell, soprattutto nella preparazione nel giro out. Infatti abbiamo visto Russell che ha detto, ma come cavolo fa Lewis a preparare il giro di, scusate il giro di parole, però preparare il giro di preparazione per la qualifica, come fa andare così, come fa a prepararlo così bene per poi andare così forte nel giro buono. Eh, Lewis è riuscito a mettere in temperatura il gomme nel momento giusto, così da avere il grip necessario per andare forte, specialmente nel secondo e terzo settore, infatti sto lì il punto di forza di Hamilton e nei confronti anche dei suoi compagni in squadra, comunque dopo la differenza tra i due è stata di due millesimi alla fine, quindi davvero nulla, però Hamilton con questa terza posizione in qualifica ha fatto un gran passo in avanti, non me l'aspettavo e quindi grande, grande Hamilton. Verstappen, come detto prima, sicuramente è stato aiutato da quella scia che gli ha dato Perez nel Q1, scusate nel primo settore, però c'è anche da dire che ha fatto la differenza ragazzi, cioè rispetto al suo compagno in squadra è tutto il weekend che fa la differenza, ormai da un po' di gare che diciamo che Red Bull corre con un solo pilota e anche oggi per venti millesimi è in seconda posizione, quindi chapeau a Max perché ha fatto un grandissimo giro e riusciva ad andare molto forte nel secondo e terzo settore a discapito del primo perché Red Bull ha deciso soprattutto ieri ma anche oggi ha fatto qualche modifica sul setup di andare su un setup un pochino più carico per privilegiare il passo gara, infatti secondo me McLaren e Red Bull sono le migliori sul passo gara perché hanno una macchina più carica e quindi riusciranno a gestire meglio le gomme e Max anche oggi ha fatto la differenza su questo. Norris, grandissima pole position, oggi davvero io me l'aspettavo, cioè lo sentivo che era nell'aria la pole di Norris perché già nell'FP3 ha fatto un ottimo giro però non è riuscito a stare là davanti perché ha fatto comunque qualche errorino insomma poteva però aggiustando il giro riuscire a mettersi là davanti e così ce l'ha dimostrato riuscendo ad andare molto forte nel secondo settore McLaren che ha tanto grip laterale in curva, soprattutto nelle curve veloci e questo ha fatto la differenza poi oggi con Norris che ha detto che ha fatto un giro perfetto. Detto questo andiamo a fare un breve recap, abbiamo visto la Racing Bulls che ha deluso esclusa in Q1 con entrambi i piloti questa è la classifica del Q1 con gli esclusi Sargian Albon, Ricciardo Tsunoda e Magnussen con Hulkenberg che invece è riuscito a qualificarsi per esempio entrambe anche le Sauber si sono qualificate. Andiamo avanti con qua Alonso e vediamo gli esclusi in Q2 che sono appunto Alonso, Bottas, Hulkenberg, Stroll e Joe con la Stone Martin che ha deluso ancora una volta non riesce a trovare quelle performance per stare là davanti addirittura abbiamo visto un Alpine che ha performato meglio rispetto a Stone Martin cosa che a inizio stagione era impensabile con entrambe le Alpine invece qualificate per il Q3. Andiamo avanti e qui abbiamo appunto la pole position di Norris qua vi faccio vedere nel dettaglio la telemetria del circuito con Perez davanti a Verstappen che Perez ha dato la scia a Verstappen in quel caso aiutandolo poi nel suo giro finale e lo ha messo in seconda posizione per l'olandese. Andiamo a vedere anche la differenza sulla telemetria nei tempi di qualifica vediamo qua tutti i tempi di qualifica con appunto la pole position di Norris 1.11.383 poi 1.11.4 di Verstappen poi abbiamo tutti i tempi ravvicinati 1.11.7 di Hamilton 1.11.7 di Russell 1.11.7 di Leclerc e 1.11.7 di Sainz allora la prima cosa che voglio farvi notare da questo grafico è l'ultima curva quindi partiamo dall'ultima curva proprio nel dettaglio curva 14 vedete come le velocità minori a centro curva sono quelle delle Ferrari e non di poco perché guardate un attimo guardate qui proprio la linea quanto scende della velocità in percorrenza delle Ferrari rispetto agli avversari hanno circa 7 o 8 km orari meno rispetto a tutti gli altri e quando i distacchi sono così ravvicinati perdere così tanto in una curva beh fa la differenza infatti vedete che le Ferrari in questo punto perdono diversi millesimi rispetto agli avversari e quello fa la differenza poi sia in curva 13 ma anche in curva 14 specialmente le Ferrari perdono e passano quindi da 300 millesimi di distacco a circa 350 che poi alla fine parliamo di 50 millesimi quindi di stacchi risicati ma fa la differenza su diverse posizioni in questo caso nella lotta con Mercedes ma non è il solo punto dove Ferrari va a perdere infatti vediamo anche qui per esempio se non sbaglio curva 9 comunque la curva molto veloce è in appoggio vedete anche qua Ferrari fa molta più fatica rispetto agli avversari con delle velocità di percorrenza minori non di tanti in questo caso però comunque si vedono vedete anche qua per esempio 277 km per Norris 279 km per Verstappen 276, 277 per le Mercedes e circa 7 o 8 km per la differenza per Leclerc e Sainz questo perché Ferrari va più piano in questi tratti del circuito molto veloci perché riesce ad andare più forte nel primo settore ma ha davvero senso andare a agevolare il primo settore per andare più forte nel secondo terzo settore? dal mio punto di vista no ma è una scelta che Ferrari ha dovuto fare perché ha un assetto che non ti permette di andare forte poi in quelle curve nella seconda parte del circuito perché non riesce a mettere in temperatura le gomme e la temperatura delle gomme e diciamo anche lo scivolamento della gomma stessa cambia nell'arco del giro e quindi Ferrari inizia a accusare quei micro scivolamenti che poi non gli permettono di trovare grip in pista un po' quello che abbiamo detto in diverse volte anche quest'anno o quei micro scivolamenti che ha Ferrari che purtroppo impediscono di andare forte anche il discorso temperature è un discorso che torna sempre quest'anno sulla SF24 vediamo invece qua nel primo settore dove Ferrari riesce ad andare un po' più forte vedete anche qui riesce a abbassare rispetto al tempo Paul di Norris e riescono ad andare più forte con vedete che abbassa i 75 millesimi in questo caso Leclerc e 33 millesimi credo Sainz mentre Vestappen abbassa di un decimo grazie anche alla scia infatti la velocità di punta di Vestappen ve la faccio vedere è molto alta in linea anzi superiore a quella di Ferrari in linea con quella di Mercedes che è più scarica rispetto agli altri team nonostante Vestappen sia più carico quindi lì ha fatto la differenza anche Max grazie a quella scia poi vedete quanto perde in questo caso Hamilton nel primo settore guardate che addirittura ha un decimo e tre sopra proprio perché Hamilton riesce a gestire meglio le gomme per il secondo e terzo settore facendo la differenza anche sul suo compagno in squadra di poco ma l'ha fatta vediamo anche nelle altre curve principali in percorrenza dove Ferrari fa un po' più di fatica in questo caso con Leclerc vedete che ha una velocità di percorrenza minore rispetto agli avversari anche in questo caso curva molto lenta anche qui Leclerc va un po' più piano rispetto agli avversari insomma Charles ha sempre fatto un po' più di fatica in trazione in tutte quelle curve dove serve avere un po' più di grip in uscita ecco Leclerc e Ferrari hanno fatto un po' più di fatica in questo caso andiamo a vedere anche il passo gara mostrato nell'FP3 ho preso i tempi di Verstappen Leclerc, Sainz, Hamilton, Russell perché le McLaren non hanno provato il passo gara nell'FP3 non abbiamo dei tempi utili e la cosa impressionante di questi tempi andiamo a vedere il ritmo di Verstappen è che ha girato con gomma media fatto 1.27, 1.25, 1.28, 1.25, 1.23, 1.22, 1.22, 1.21, 1.21 insomma e 1.20.0 è andato sempre a abbassare il tempo è partito un tempo abbastanza alto con gomma media ma è andato costantemente a abbassare il suo tempo nella simulazione passo gara sintomo che Red Bull magari ha anche messo tanto carico di benzina ma il trend del passo gara è costante anzi va anche a migliorare al contrario faccio notare per esempio Mercedes con Hamilton 18.3 18.3 ancora Hamilton cioè 9.1, 18.2, 18.4, 18.6, 18.8 18.8 e poi ha abortito, poi ha mollato sul passo gara quindi è un trend che tende a salire con gomma soft in questo caso Hamilton e non riesce quindi a abbassare il tempo come ha fatto Verstappen infatti non considerate tanto il tempo stesso cioè 18.8 oppure andiamo a vedere il 20 ma considerate il trend sul passo gara e quello di Mercedes va verso l'alto insomma non è un trend positivo e questo non è buono neanche per la gara di domani andiamo a vedere Russell 16.8, 17.2, 17.2, 17.8, 17.7 17.7, 17.3, 17.6 anche quello di Russell comunque va ad alzarsi non così tanto come quello di Hamilton però comunque ha un netto stacco tra il primo giro e gli altri quindi vuol dire che Mercedes in questo caso farà un po' più di fatica sul passo gara avendo anche una vettura un po' più scarica rispetto agli avversari abbiamo visto con le velocità di punta Ferrari al contrario con Leclerc e Sainz andiamo a vedere Leclerc 19.0, 18.8, 18.0, 17.9, 17.4 e poi ha mollato anche il trend di Ferrari è positivo va verso il basso infatti ha un'ottima gestione delle gomme c'è da dire che è partito con un tempo abbastanza alto comunque Leclerc un 19.0 con gomma soft tempo abbastanza alto rispetto invece per esempio a Mercedes che è partita con Hamilton 18.2 Russell addirittura 18... Russell scusate 16.8 andiamo a vedere invece Sainz che ha girato un po' dopo con 18.2 18.4 e poi 18.1 18.1 e poi basta 21.7 quindi anche il trend di Sainz è positivo va a abbassarsi però anche lui si partita un tempo un po' più basso rispetto a quello di Leclerc diciamo che Ferrari convince di più sul passo gara rispetto a Mercedes McLaren la vedo favorita in questo caso secondo me McLaren è del filo a torcere anche a Red Bull domani in gara Norris e Vestappen se la giocheranno ovviamente Perez e Piastri no perché sono più indietro in classifica e attenzione Ferrari deve puntare al podio cioè non ce n'è Ferrari deve puntare a quel terzo posto sul podio se riesce a fare qualcosina di più magari perché c'è una gara pazza con la pista bagnata a inizio gara tanto meglio però il terzo posto davanti ai Mercedes bisogna conquistarlo è importante per Ferrari per dare anche uno scossone alla classifica non perdere troppo nei confronti McLaren e neanche perdere troppo nei confronti di Red Bull quindi sarà fondamentale per Ferrari mostrare che coi aggiornamenti hanno puntato anche sul passo gara e avere un ritmo costante e riuscire a trovare anche la giusta finestra di temperatura sulle gomme perché se l'asfalto avrà una temperatura più bassa beh non sarà facile per Ferrari trovare ritmo e vediamo se con questi aggiornamenti riuscirà a trovare anche un po' più di carico oggi devo essere sincero mi ha un po' deluso Ferrari anche se i distacchi sono davvero minimi mi auspico che domani Ferrari possa luttare per il podio far bene per questo io vi dico che il mio pronostico per la gara di domani è punto dai su una vittoria di Norris anche se non sarà facile però dico Norris, Verstappen, Leclerc vedremo come andrà però sono un po' ottimista anche per Ferrari ma lo spero vivamente ditemi anche voi nei commenti il vostro pronostico per la gara di domani e ditemi cosa vi aspettate chi vi ha deluso di più chi vi ha sorpreso in queste qualifiche che abbiamo visto e niente vi ricordo come sempre ovviamente di iscrivervi e attivare le notifiche per non perdervi nessun video che esce qui sul canale ogni settimana andiamo a vedere tutte le notizie a tema auto e Formula 1 e durante i weekend di gara andiamo a commentare tutte le sessioni del weekend appunto e vi ricordo anche di seguirmi su Instagram dove mi chiamo Il Rastro dove pubblico contenuti a tema automotive e vi avviso quando escono nuovi video qui su YouTube qui da Il Rastro è tutto ci vediamo a un prossimo video Grazie a tutti